Un'iniziativa importante, intelligente e simpatica da parte del nostro amico Marco del Grady Caffè di Piazza Guido Monaco, anzi della Galleria Magliai, tanto per intenderci. Marco ha deciso di portare i suoi clienti, i suoi amici per Ferragosto, tutti in gita a Riccione e all'Aquafan, vero? Sì, un'iniziativa anche per cercare di legare ancora di più, non che ce ne fosse bisogno, però è bella, insomma ho visto che c'è una bella risposta. Allora, come si fa a partecipare a questa gita? Si telefona a Grady, si prenota entro il 24 di luglio, vero? Entro il 24 di luglio, i tempi sono stretti, siamo ad agosto, i pullman sono contati, abbiamo preso un'opzione per il pullman da 54 posti, il prezzo è di 50 euro se sono 25 persone, si abbassa a 43, poi penso anche di poter limare qualcosa più se il numero si alza. Ecco, quindi voi con 50 euro portate uno all'Aquafan di Riccione e cosa fa? C'è l'ingresso? L'ingresso e pullman compreso, noi ci mettiamo le bevute. Quello, insomma, c'è il bar se ne dà le bevute a te. Quindi può essere un'alternativa a un Ferragosto diverso. Chiamate Marco al Grady Caffè e allora vi salutiamo, visto che la Rita ha messo il numero fisso, diciamolo anche, per i non vedenti, 0575? 1822916 Allora, Marco vi aspetta per un capo d'estate perché il 15 d'agosto, Ferragosto di solito, lo sai Rita perché si chiama Ferragosto, tu lo sai? No Ora vi erudisco perché fin dai tempi di Romani si faceva festa perché erano le ferie dell'imperatore Augusto. Da lì Ferragosto. Ragazzi, vi lascio alla vostra ignoranza. Buon viaggio e a presto. Ciao. Ciao. Ciao.